La bellezza di non avere paura, perché tutti avevamo paura, però la paura era dentro di noi, non la manifestavamo mai all'esterno. E questa è una delle noti che c'è, tutti quelli che appartenevano alle strutture investigative. Avevamo paura sì, però non lo dicevamo in giro, non lo facevamo vedere. Allora un giorno, con la mia battuglia, entrai nel porto di Palermo e rimango allevito, rimango basito, perché vedo il generale Carlo Alberto della Chiesa da solo che passeggiava nel molo di Palermo. Gli ho raccontato anche alla figlia.